Ciao ragazzi siamo qua, il 25 aprile ci ha regalato il baffone, il 25 aprile 2018, è uscito un bel baffone, combattimento abbastanza duro, ora andiamo a fare il rilascio. Salutiamo Angelone Meroni, Matteo De Grandi, Achille Valeriani, Gianluca Milillo, Gruppo Sur Italia, Massimo Aceti, Grazie Marco, Davidone, Davide Valle, sono io Massimo Aceti, Mattia, questo aprile è stato un bel anno, bel mese. Quasi pronto, ma c'è spazio di archivazione Marco? Vai vai tranquillo, Grazie a tutti.